Con lo sviluppo di questo tipo di raccolta differenziata si è sviluppata una filiera industriale che realizza tutta una serie di prodotti biodegradabili e compostabili in bioplastica, come ad esempio i sacchi per la spesa, gli shopper, ma adesso anche i sacchi frutta e verdura, tra i prodotti di film flessibile, ma anche altri prodotti in plastiche compostabili rigide come i piatti, i bicchieri, le posate, quindi il cosiddetto food service, le capsule per il caffè e anche diversi tipi di packaging, quindi imballaggi per alimenti. Quegli imballaggi che vengono a contatto con il cibo e che restano contaminati dal cibo stesso, quindi difficili da riciclare nel riciclo tradizionale delle plastiche e che possono invece essere conferiti nella frazione organica riducendo la contaminazione di questa frazione e potendo così essere riciclati a beneficio della sostenibilità, di una maggiore sostenibilità ambientale.